E' partito, ricominciamo? Ecco voi signore e signori, oggi è il 20 gennaio, sono circa le 5 e un quarto di pomeriggio e siamo qua per presentarvi la Glock 2017, eccezionale, non si incerpa mai, si può pulire pochissimo, compensata, dopodiché vedremo il classico, il galastico, calibro 7,62, impugnatura in legno, molto bello, ottimo pezzo da collezionismo, oltre a questo abbiamo una chicca, attenzione alla chitta, abbiamo la pompa Winchester con l'istit, il caricatore 7 colpi e pochissimo rituro, da notare le citture in legno d'acero, che vedete sull'impugnatura della mano e sul calcio in legno, iniziamo con la Glock G17, ecco il caricatore, una rapica molto breve per farvi vedere, densa, rumore, scarrellamento, sfiammamento e che che l'è, iniziamo, vale Glock G17 Arma, Kalashnikov in 7,62, blindatissimi Riprendiamo da Kalashnikov in 6,62, test numero 1 Primi due colpi con calcio Ora tenteremo la combo senza calcio, vai provate in vita mia, funzionerà da dio E fa attenzione signore e signori, proviamo Big Mama Dove sono i corpi Big Mama? Sono finiti gli altri? Quattro colpi Big Mama Brenek caricati in acciaio, 10,5 come quello delle padelle 18,10 ma fa niente Sport da non fare per chi ha la spalla che ci riesce facilmente Grazie Adesso Chi Aquí Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie